Una tragica fatalità, quella costata la vita Franco Ferrari, imprenditori di 53 anni di chiesa in Valmalenco, strappato improvvisamente alla vita ieri pomeriggio in un incidente sulle montagne di casa. Ferrari, sposato con tre figli, titolare di un negozio storico di arredamento del paese in cui viveva, aveva deciso con la moglie ed un amico di trascorrere la bellissima Domenica di Sole facendo un'escursione lungo il sentiero glaciologico Luigi Marson. Dopo aver raggiunto in auto le dighe di Campomoro, il gruppetto si è incamminato verso il rifugio Bignami per poi ammirare il meraviglioso laghetto naturale generato dallo scioglimento dei ghiacciai. Una bellezza della natura spettacolare. Sulla strada del rientro però, attorno alle 16.30, a quota 2.400 metri, l'imprevedibile tragedia in prossimità della Morena che delimita la confluenza tra i ghiacciai di Fellaria occidentale-orientale ai piedi del massiccio Varuna nel gruppo del Bernina. Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori all'origine della caduta fatale, l'uomo avrebbe appoggiato i piedi su una roccia ammontonata, ovvero levigata dal ghiaccio e particolarmente umida, perdendo il contatto con il suolo e quindi precipitando per una quindicina di metri. Un volo durante il quale Ferrari ha ripetutamente battuto la testa sulle rocce, perdendo la vita all'istante. Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi. Gli uomini del soccorso alpino della Val Malenco e gli esperti del SAGF e della Guardia di Finanza, ora impegnati nelle indagini, si sono ritrovati alla stazione di Vassalini, mentre per una prima perlustrazione sul posto è intervenuta l'equipe medica dell'elicottero di Bergamo che ha individuato il luogo della tragedia. Al personale sanitario però non è rimasto purtroppo che constatare il decesso dello sfortunato escursionista e quindi procedere al recupero della salma, ricomposta presso la camera mortuaria dell'ospedale di Sondrio, dove questa mattina è stata effettuata la ricognizione cadaverica. Franco Ferrari era un uomo molto conosciuto e stimato anche per il suo impegno come responsabile dell'unità territoriale della Croce Rossa della Val Malenco. Franco è uno storico volontario della Croce Rossa della Val Malenco, da più di 30 anni in Croce Rossa, ma era anche il responsabile del gruppo della Val Malenco e in questo ruolo lui ha sempre mostrato una grande attenzione ai bisogni della sua valle, a offrire servizi migliori per la popolazione e quindi ci mancherà veramente tanto. Aveva anche un sorriso particolare che rimarrà impresso in tutti noi. Franco era una delle colonne portanti della nostra associazione, referente del gruppo volontari di chiesa, il gruppo che si occupa appunto di gestire il servizio di emergenza e urgenza per la Val Malenco e abbiamo preso questa notizia che ovviamente ci ha lasciato esterefatti molto addolorati.